Attivazione e implementazione del controllo di vicinato, più telecamere anche per la lettura targhe, rafforzamento delle pattuglie notturne delle forze dell'ordine. Questi sono i punti principali del piano per la sicurezza firmato a Faenza dai sei sindaci dell'Unione e dal prefetto. Prima di tutto un rafforzamento della collaborazione nella materia delicatissima della sicurezza in cui evidentemente la partecipazione di tutti gli attori coinvolti e sotto questo profilo io ringrazio in particolare l'impegno straordinario che mettono i sindaci e le polizie locali che soprattutto in questa strutturazione organizzata attraverso le unioni danno un contributo veramente notevole. Quindi dicevamo un raccordo sempre più stretto per affrontare i temi e presenta anche degli aspetti importanti innovativi relativamente al potenziamento degli strumenti della videosorveglianza, soprattutto attraverso il Targa System e presenta anche un riconoscimento, una considerazione molto positiva anche dei cosiddetti accordi di vicinato che soprattutto nell'Unione della Romagna-Farentina sono monitorati, controlli sono comunque molto efficaci e con tanti risultati positivi da parte dei posti di polizia. Il questore proprio qualche tempo fa ha detto che in quest'opera anche di potenziamento, di riassunzione anche della polizia di Stato per l'anno prossimo si aspetta un rafforzamento e quindi il superamento di tutte le criticità dal punto di vista numerico attualmente presenti sul territorio.